Per qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Dove l'ho visto? Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi Come mi piace l'odore dei criminali bruciati di prima mattina Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi